Ciao amici, oggi vi presento un'altra opera della collezione degli animali della Sardegna. È il muflone sardo, forse una delle specie più emblematiche dell'isola. La sua caratteristica principale sono le grandi corna, larga la base, spira latte rivolte verso l'interno. Possono addirittura arrivare a 90 cm di lunghezza e a 4 kg di peso. Il manto ha diverse tonalità di bruno e ha una folta criniera sul collo e sul petto. È ritenuto una specie endemica ed è sicuramente una specie a rischio di estinzione protetta sia a livello regionale che a livello nazionale. Ho realizzato questo dipinto su una tela 100% con colori ad olio. Adesso vi lascio al time lapse con alcune fasi della lavorazione. Ciao! La sua caratteristica è la sua caratteristica. La sua caratteristica è la sua caratteristica.